A lavorare se siete in grado di farlo, vergognatevi. Vogliamo la sicurezza, che non si vengono per anche la paura, ma con l'inclusione economica e il solare. Sannini, Sannini, Sannini! Io ho fatto i due pantini, voi forza, andate per cortesia, forza! Delle persone ci hanno alzato le mani, a noi maestre, che siamo venuti a protestare contro le promesse non mantenute da Salvini. Il popolo italiano non va a dare da come nostro, viva l'Italia, viva la sostituzione, e oggi non è che uno in meno! L'ha alzato le mani, l'hanno visto, lo dovevano mandare fuori, e poi ce l'hanno lasciato, l'ha alzato le mani, ha un po' grazia, ha un po' grazia, ha un po' grazia, ha un po' grazia. L'hanno spiegata, mamma e papà, ve la spiego io, ok? Meno uno che sta con Salvini. Non veniterò per le scatole in piazza, avete capito? L'ha alzato il cibo, è vero, è vero, quello che può fare, ho fatto, non venire di un tempo, voce così.